La strada Mingardina, fondamentale arteria di collegamento per il territorio, resterà chiusa alla circolazione anche questo fine settimana. La chiusura attiva dallo scorso 13 ottobre a causa di una frana interessa il tratto compreso tra i svincoli di San Severino di Centola e il Bivio con la strada provinciale 66. La decisione di mantenere chiusa la strada è stata confermata ieri in seguito all'incontro in provincia tra tecnici e rappresentanti politici impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della costone roccioso. Nonostante gli sforzi la situazione resta complessa e i lavori non sono stati ancora completati. Questo provoca forti disagi per pendolari e studenti costretti a utilizzare percorsi alternativi per raggiungere scuole e luoghi di lavoro. La chiusura sta causando una situazione critica anche sul fronte sanitario in quanto i presidi ospedeleri più vicini per i cittadini di Camerota, Pisciotte e Palinuro restano quelli di Vallo della Lucania e Sapri con tempi di percorrenza notevolmente allungati. Al momento non c'è una data certa per la riapertura della Mingardina ma i lavori proseguono nella speranza di garantire una messa in sicurezza definitiva nel più breve tempo possibile.